ciao bentornati sul canale in questo video andremo a confrontare il parto di quelle che sono le società tradizionali nel parto invece che avviene nelle nostre società contemporanee quali sono appunto le principali differenze mettetevi comodi per poter appunto ascoltare questo video vi invito anche ad iscrivervi al canale così potete sempre rimanere aggiornati su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico nei paesi occidentali come sappiamo benissimo il parto di solito avviene ovviamente in ospedale con l'aiuto dei medici del personale sanitario con un tasso di mortalità per le madri e per i neonati relativamente basso nelle società tradizionali invece come andremo a vedere in questo video il parto è ben diverso il tasso di mortalità sia per le madri che per i neonati è ovviamente molto 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 più alto più elevato da quando l'uomo ha acquisito la stazione retta ha dovuto ovviamente lo dice la nostra storia evolutiva raggiungere dei compensi raggiungere dei compromessi perché con la stazione retta ovviamente le dimensioni del canale del parto si sono ridotte quindi il parto è diventato ovviamente un evento molto più difficoltoso per la donna oggi si può fare appunto in ospedale tranquillamente ma nel passato era come dicono le fonti veramente un'esperienza dura ardua per la donna continuiamo adesso questa carellata di differenze tra diciamo società moderne e società tribali e vediamo abbiamo visto in generale il parto vediamo adesso invece l'aspetto appunto di quello che è l'infanticidio nelle società moderne nelle società contemporanee si può dire che l'infanticidio è illegale in quasi tutti gli stati in realtà in alcune società tribali invece l'infanticidio è ben accettato questa quindi un'altra grande differenza tra le società tradizionali e quelle diciamo moderne e in quale caso è accettato nelle società tribali l'infanticidio nei casi in cui per esempio ci sono delle malformazioni del neonato o c'è un'astenia o c'è appunto la morte del padre o c'è anche del deficit di cibo e quindi si sa che non ci sarebbe diciamo la possibilità di sfamare un'altra bocca che sarebbe appunto quella dell'uovo nato mentre per quanto riguarda appunto la maggior parte degli stati attualmente presenti sul pianeta terra per la maggior parte delle nazioni ovviamente per fortuna l'infanticidio non è accettato andiamo adesso invece a porre a confronto sempre tra società tribali e moderne lo svezzamento sostanzialmente nelle nostre società l'età il periodo di svezzamento va riducendosi sempre di più e questo invece è un aspetto negativo delle nostre società perché ve lo svezzato all'incirca approssimativamente intorno ai sei mesi anche se poi in questo periodo di tempo come vi ho già detto si sta andando progressivamente riducendo sempre di più nelle società dei cacciatori raccoglitori attualmente ancora esistenti sul pianeta terra questo periodo di svezzamento non avviene precocemente ma è più tardivo perché perché nei cacciatori raccoglitori il latte materno rappresenta l'unica fonte di cibo non ci sono pappe non c'è l'atto industrializzato e in media pensate voi avviene intorno ai tre anni età alla quale il bambino è in grado poi di masticare dei cibi effettivamente solidi proprio perché appunto non ci sono dei cibi premasticati quindi quanto più dura l'allattamento nei cacciatori raccoglitori maggiori sono le possibilità che il bambino possa sopravvivere in età adulta questi sono appunto degli studi antropologici che sono stati fatti proprio su questo aspetto ma andiamo a vedere un altro poco più nel dettaglio quali sono le effettive cause dello svezzamento tardivo nelle società tribali rispetto appunto alle nostre società in cui lo svezzamento avviene essenzialmente precocemente beh diciamo che in primo luogo nelle società tribali si può fare sostanzialmente un bambino per volta non si possono fare due bambini insieme perché due morirebbero di fame quindi uno alla volta inoltre soltanto dopo quattro anni i bambini sono capaci di camminare prima vengono praticamente trasportati e la donna investe molte energie fisiche ed emotive per crescere un figlio già nelle nostre società contemporanee energie investite da parte della donna per poter crescere un figlio sono impressionanti figuratevi per una donna cacciatrice raccoglitrice quanto siano maggiori queste fatiche proprio perché lo svezzamento è più tardivo le cure materne diciamo sono maggiori c'è maggiore attenzione e quant'altro considerate infatti che una donna kung i kung diciamo sono un popolo di cacciatori raccoglitori in media pesa 40 chili non pesa quanto una donna delle società tradizionali dai 60 fino agli 80 90 chili in alcuni casi no una donna diciamo di una società tribale ha un fisico scolpito ha un fisico diciamo quasi come i culturisti occidentali con una forza fisica impressionante nonostante pesi 40 chili perché c'è una ma ci sono delle masse muscolari importanti in virtù di uno stile di vita differente dal nostro beh pesando 40 chili considerate che trasporta su di sé un bambino di 12 chili 15 chili di vegetali selvaggi litri litri di acqua più vari utensili tutto sulle sue spalle insieme anche al bambino ovviamente questo vi fa capire quante energie vada ad investire effettivamente una donna di una società tribale nella crescita di un figlio ed effettivamente lo svezzamento tardivo è vantaggioso poi quando c'è stato il passaggio nel passato dico da società di cacciatori raccoglitori quindi di uomini nomadi di gruppi umani nomadi a gruppi umani diciamo sedentari quindi il passaggio alle società agricole questa questo svezzamento si è andato riducendo già drasticamente a due anni perché non c'era neanche più il problema di dover trasportare sulle spalle proprio figlio un altro aspetto molto importante che differisce notevolmente tra le società nostre e quelle tribali è il cosiddetto allattamento nelle società di cacciatori raccoglitori ci sono dei lunghi intervalli tra le nascite dei bambini perché appunto è presente già un figlio piccolo da accudire e il secondo la madre non sarebbe in grado di accudirlo e quindi in alcune società se accidentalmente dovesse nascere un secondo figlio in un periodo troppo ravvicinato di tempo se non ci dovessero essere delle risorse di cibo a sufficienza beh in quel caso possono anche ucciderlo perché appunto c'è l'infanticidio e ci ricolleghiamo appunto l'aspetto di prima inoltre diciamo questi lunghi intervalli intervalli fra le nascite sono anche legati a meccanismi fisiologici che rendono poco probabili nuove gravidanze a stretto giro però questi meccanismi fisiologici si innescano soltanto se il corpo umano sta funzionando sta avendo uno stile di vita fisiologico quindi questi meccanismi fisiologici non si attuano nelle nostre società contemporanee che viviamo appunto in un modo diverso da come dovremmo vivere ma appunto si verificano soltanto in questi popoli di cacciatori raccoglitori infatti l'accesso costante del neonato al seno materno quindi il cosiddetto allattamento su richiesta praticamente comporta quella che viene denominata gergo scientifico la menorrea lattazionale ma andiamo con ordine proprio per quanto riguarda l'aspetto dell'allattamento nelle società tribali il neonato ha l'accesso costante al seno materno quindi rimane sempre a contatto con la madre tutto il giorno e può poppare anche di notte persino quando la madre dorme e quindi c'è appunto il cosiddetto allattamento su richiesta nei popoli kung che vi ho nominato prima abbiamo appunto delle poppate in media quattro volte all'ora per due minuti a poppata e questo diciamo allattamento dura appunto fino ad almeno tre anni nelle madri moderne invece l'allattamento è programmato in base ai turni di lavoro gli impegni tutto viene separato a livello di ore ci abbiamo degli intervalli di tempo lunghi tra una poppata e l'altra non è non c'è il fatto appunto che il neonato possa poppare quando voglia lui e il numero di poppate di conseguenza è drasticamente ridotto tutto questo comporta di rimando anche dei problemi di alterato sviluppo del cranio perché sin da piccoli diciamo i muscoli masticatori non vengono sollecitati correttamente ma allo stesso tempo l'altro aspetto importante è che appunto nei cacciatori raccoglitori la suzione del bambino per via dell'allattamento su richiesta funge da contraccettivo naturale e quindi determina la menorrea lattazionale e impedisce di avere subito dopo dei figli quindi tutto questo comporta un lungo intervallo tra le nascite nei cacciatori raccoglitori infatti la suzione rilascia nella madre degli ormoni che vanno praticamente a stimolare ovviamente la secrezione del latte materno ma vanno anche allo stesso tempo a inibire l'ovulazione soprattutto se c'è l'allattamento su richiesta quindi l'allattamento frequente e costante e infatti la massa grassa scende al di sotto della soglia critica quindi va molto in giù per via dell'ovulazione e questo comporta un blocco diciamo dell'ovulazione stessa quindi la massa grassa della donna della cacciatrice raccoglitrice è troppo bassa per poter sostenere un'ovulazione e quindi l'ovulazione stessa va a bloccarsi in buona sostanza le madri occidentali invece allattano ma hanno anche dei rapporti sessuali e quindi possono concepire perché appunto non hanno la menorria lattazionale perché questa richiede appunto delle poppate frequenti e in più le donne occidentali sono ben nutrite quindi non si va al di sotto della soglia di massa grassa critica e quindi l'ovulazione può avvenire quindi è un po al contrario la frequenza dell'allattamento poi è variabile in base anche alle specie che popolano il pianeta terra negli scimpanzai nei primati nelle scimmie del vecchio mondo e anche negli umani cacciatori raccoglitori così come nei canguli e nei pipistrelli l'allattamento è continuo nei conigli e nelle antilopi invece è discontinuo perché lasciano i cuccioli in tana per andare a cercare il cibo quindi l'allattamento discontinuo di noi umani moderni si è instaurato dopo la rivoluzione agricola quindi sostanzialmente recentemente se andiamo a considerare la lunga storia umana le moderne madri umane hanno infatti acquisito abitudini di allattamento dei conigli conservando però la fisiologia dilattazione degli scimpanzai e delle scimmie del vecchio mondo quindi sostanzialmente è un gran paradosso evolutivo ma cosa possiamo imparare da questo video qual è il messaggio che possiamo appunto portarci a casa di sicuro l'aspetto più importante di questo video è quello appunto di incentivare l'importanza dell'allattamento al seno evitate evitate sempre di allattare diciamo col biberon i vostri figli quindi evitate sempre l'allattamento artificiale incentivate il più possibile l'allattamento al seno meglio ancora se riuscite appunto ad attuare la tecnica dell'allattamento su richiesta molti pediatri quelli più bravi consigliano alle madri l'allattamento su richiesta se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e iscriverti al canale ci vediamo al prossimo video ciao